Torna la paura tra i piccoli allevatori di pecore e capre di Roseto, Mosciano, Notaresco, Giulianove e Morrodoro per la presenza di un branco di lupi composto da almeno 5 elementi avvistato al ridosso degli allevamenti. Al momento il numero degli attacchi da parte dei lupi è notevolmente calato rispetto agli episodi che si sono registrati due anni fa quando nell'arco di un paio di mesi vennero uccise 5 pecore e un agnellino ad un allevatore di Roseto e ben 9 capre al proprietario di una fattoria di un agriturismo in aperta campagna a Morrodoro. Altri episodi simili a case di Trento, di Giulianova e a Contrada, Mulinetto, a Mosciano, qui addirittura venne azzannato un cane di proprietà che ha subito danni dall'attacco dei lupi perdendo pecore, agnelli e capre e si è visto proporre un risarcimento dalla regione di appena 30 euro a fronte di un valore dell'animale, soprattutto se si parla di pecora gravida, come è accaduto nel caso di Ercole del Sor di un accordo titolare di un'azienda agricola con un piccolo allevamento di pecore a Roseto di almeno 200 euro. Alcuni allevatori hanno messo in pratica i suggerimenti che sono arrivati dagli esperti realizzando recinzioni alte almeno 1,90 m ma va detto che in un paio di casi i lupi sono riusciti a scavalcare anche queste recinzioni ed è accaduto nelle campagne di Notaresco, mentre a Cologna Paese tre lupi sbranarono in una sola notte un montone abbandonando i resti della carcassa al ridosso del cimitero. Intanto ad ottobre verranno organizzati degli appuntamenti da parte di esperti con incontri al Palazzo del Mare di Roseto che vedranno la presenza degli allevatori della zona, verranno illustrate le nuove soluzioni messe in campo per proteggere capre e pecore dal possibile attacco dei lupi senza ricorrere all'uso dei fucili che qualcuno ha minacciato di imbracciare per difendere il proprio allevamento.